Un nuovo video sta per cominciare, mi raccomando condividetelo, per me è molto importante. Ci siamo ragazzi, questa sera la Champions tocca a noi, questa sera torniamo davanti, di fronte ad una squadra che ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Ma non per come è andata la gara della finale di Champions League di due anni fa, perché l'abbiamo onorata e anche alla grande contro i più forti, in realtà che poi l'hanno vinta contro di noi. Questa sera non è una finale, bisogna affrontarla con tanta dignità, sudare la maglia, avere tanto orgoglio di indossare i colori nero-azzurri e fare una gara degna dell'FC internazionale di Milano. Si può perdere? Assolutamente sì. Si può pareggiare? Assolutamente sì. Si può vincere? Assolutamente sì. Questa è una gara difficilissima, il Manchester City non perde in casa in Champions League dal 2018, pensate un po'. Quindi è chiaro che io da interista non vado lì con l'arroganza di poter pensare di andare a battere il City dopo esattamente sei anni. Ma ricordiamoci sempre che bisogna avere rispetto di tutte, mai paura di nessuna, perché l'Inter se la può giocare. Non dico che andrà a vincere sicuro, non dico che andrà a vincere a mani basse, ma l'Inter se la può giocare e ha il dovere e il diritto di pensarlo. Le statistiche sono queste, ma è anche vero che le statistiche cambiano, le cose si possono stravolgere, basta solo volerlo. È vero, abbiamo di fronte tanti fuoriclasse, abbiamo di fronte una squadra sicuramente al top, abbiamo di fronte una delle squadre migliori d'Europa, se non del mondo. Del mondo anche. Ma noi siamo forti, non siamo una squadra di scappati di casa e se anche qualcuno volesse farcelo pensare, non dobbiamo cadere nel tranello, assolutamente no. Inter, lo hai dimostrato due anni fa, che cosa sei capace di fare contro il Manchester City? Non è facile. Magari te ne vai a casa con una sconfitta di 1-0, come nella finale, magari te ne vai a casa con una vittoria per 1-0, magari torni a casa con un pareggio, è la prima. Quindi mi raccomando, qualora dovessimo vincere, non fate i manifesti e gli festoni, qualora dovessimo perdere, non fate i disastri apocalittici, perché col Manchester City a Manchester ci può stare tutta di non portare a casa i tre punti. E non è che lo dico per buttare le mani avanti, perché io sono molto coraggiosa e chi mi conosce lo sa, solo che bisogna avere umiltà, soprattutto in queste partite. Bisogna essere umili e sapere che l'avversario che hai di fronte è una spanna sopra quasi tutte, è una spanna sopra quasi tutte, ma hai dimostrato di poter avere una buona, una giusta dose di coraggio per poterla affrontare nel migliore dei modi. Quello che io voglio vedere da interista questa sera è la maglia sudata, l'impegno, l'abnegazione, il coraggio, il coraggio e onore per questa maglia che noi amiamo alla follia. E' questo quello che io voglio vedere da interista questa sera sul campo di Manchester, è questo che voglio vedere. Detto questo, Simone Inzaghi scende in campo con una formazione che non è la sua classica formazione. Perché? Perché ci sono molti giocatori che sono fuori condizione, c'è Lautaro che non sta benissimo. Quindi la probabile formazione che ci dicono i più, soprattutto Sky perché io guardo spesso quella di probabile formazione, ci dice che giocheranno Sommer in porta, Bissek a Cerbi e Bastoni in difesa, Carlos Augusto e Darmian come quinti. A centrocampo ci saranno delle novità perché si è capito ragazzi che Mkhitaryan non ne ha più, giustamente direi giustamente. Quindi al suo posto con Barella e Cialanoglu, Barella e Cialanoglu giocherà, dovrebbe giocare titolare Zelisky, Piotr Zelisky. Detto dal mister Zello, anzi Ziello. Ma la novità più importante sarà avanti, perché avanti non dovrebbe cominciare Lautaro Martinez dal primo minuto, ma ci dovrebbe essere in attacco la coppia Tioram-Taremi, Medi-Taremi. E sinceramente non lo trovo sbagliato ragazzi, abbiamo visto Lautaro in difficoltà nella scorsa partita contro il Monza ed è giusto anche che almeno per il primo scampolo di partita, per il primo tempo quantomeno vedremo come si metterà la partita, è giusto che giochi Taremi al suo posto e Marcus Tioram, sperando che Marcus Tioram, ritrovi la brillantezza che ha lasciato in campo contro l'Atalanta. È una cosa che ovviamente spero e speriamo tutti quanti gli interisti. Quindi la probabile formazione dovrebbe essere questa qui, salvo cambiamenti dell'ultima ora, insomma i cambi saranno difesa, esterno, ovviamente per forza di cose perché Federico Di Marco non sta bene, è rimasto a Milano sperando che si possa recuperare per la stracittadina milanese di domenica. E quindi ci sono questi cambi, difesa quinto di sinistra, come quinto di destra Simone Inzaghi preferisce e predilige ancora una volta Matteo Darmian e come a centrocampo invece cambia uno dei tre che ci sono sempre. E' giusto che sia così, credo. E quindi Mkhitaryan va in panchina e Piotr Zelischi va a centrocampo in attacco. Avremo Meditaremi al posto di Lautaro Martinez, uno stanco e affaticato Lautaro Martinez che deve riposare, perché se non è in condizioni è giusto che dia spazio ai compagni che ne hanno di più. Sperando che Lautaro possa subentrare nel secondo tempo, io me lo auguro e fare anche il gol che sblocchi questo maledettissimo digiuno che dura da marzo, che tutti stanno massacrando ma ovviamente poi i conti si fanno alla fine, ma in Champions League devi macinare punti e soprattutto con il nuovo format ragazzi. Non c'è da perdere assolutamente punti, ovviamente questi li puoi mettere. Terè in conto, ma solo questi. E nemmeno perché sinceramente io vorrei vincere dopo il pareggio di Monza. E niente ragazzi, i miei belli, non c'è da dire nient'altro, spero che questa sera vedremo una bella partita, vedremo un bello spettacolo, ma l'Inter con una squadra che comunque gioca a viso aperto, ci ha insegnato che riesce a fare il suo gioco, riesce a fare spettacolo. Spero non si chiuda dietro perché non serve a nulla ovviamente con questo Manchester City qui. Spero che faccia la sua partita con tanto di onore, di orgoglio e con grinta e capabilità. Come solo lei sa fare se vuole farlo. Vi abbraccio forte come se fossi lì e ricordatevi sempre che la vostra lupia vi vuole bene. E sempre, 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 forza Inter! Forza Inter! Non sono una giornalista, sono un'appassionata e si vede pure. Condividete il video.